Un speciale ringraziamento ai vigili del fuoco che questa mattina sono venuti a spegnere un incendio divampato proprio nei pressi del fonte di Tiberio ma quello che fa ancora più specie adiacente alle case e come potete vedere è pieno di abitazioni in questa zona e proprio su questo punto mi soffermerei per spiegarvi e farvi notare questo buco presente nel parco dove la gente fa di tutto e di più perché come potete vedere ci sono due panchine e due bei tavolinetti dove la sera la gente preferisce andare lì a bivaccare, ubriacarsi, drogarsi ma il problema maggiore cos'è? Quando devono fare i propri bisogni o vogliono farsi una siringa o una canna vengono in questo bel buchetto perché ve l'ho nascosto perché come potete vedere uno se si acquatta si nasconde da tutto il resto e nascondendosi da tutto il resto può fare ciò che vuole e quindi come vedete oggi hanno dato fuoco al giardino però domanda se i vostri bambini venissero a giocare qui e trovassero come in questo caso vedete una bombola o magari peggio ancora delle siringhe cosa ne pensate?